Ciao a tutti ragazzi, siamo su Black Ops 3, però campagna che non credo l'abbiamo mai fatta nessuno, io l'ho compreso, e sono qui con... Mr.L ragazzi, era ora che ti svegliassi. Mikekriz ha deciso di fare un intro da straesaltato. Perché se no pensano che siamo morti. Cos'è proprio di aver preso 10 a scuola ragazzi, fate 7 esaltati con Mikekriz. Va bene, ogni caso ragazzi, abbiamo deciso di fare la campagna perché io prima, proprio in questo momento qua, sul mio computer a casa mia, sto caricando... un musical di, proprio si chiama, Call of Duty Black Ops 3 musical, sottotitolato da me stesso. E l'ho visto, io ero tipo, devo tradurre per scoprire cosa succede dopo, proprio la trama mi era stra interessato, quindi abbiamo deciso di dire qua, di trovarci, che la trama è carina. Abbiamo provato a farlo in co-op tempo fa ragazzi, però... Allora, uno, voi non capivate un cazzo. Mi sono i sottotitoli, ci sono i sottotitoli. Mi sa di spettate... Sono bello anche perché noi abbiamo... Opzioni... Michia è... No, aspetta, 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 aspetta. Aspetta, 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 grafica mi sembra, no, daltonismo sicuramente, sono i toni, brani musicali, ma che è? Disattività, comandi, forse, forse, campagna, e io sono abituato a così cosa... Inizia così, di gioco? Non lo so, ah, forse, mi sa che sto qua è un tutorial. Perché l'abbiamo già iniziato, ma ci ha sputtinato la registrazione, eravamo assieme. Cyber Nucle, va bene, non mi inter... Ah, ti puoi potenziare qua, e chi lo sapeva? Ah, ok. Non mi interessa, voglio andare avanti così. Ah, vabbè, posso farti un favore che io... Non alzare che io... Non alzare qualcosa delle stelle. No, non alzare che sente l'Eco d'8. 6, 8. Ok. Ma così non sentiamo neanche in 9, vuoi che lo sentano nei cuffi? Ah, era così l'ultima volta in una realtà campagna. Non credo. Ah, vabbè, questa qua che mi piace... No, è più scarsa. A me piace. Ok. Siamo sicuramente che cominciasse così. Mi sembra di... Ma c'è una cosa... Scegliere l'armi, tanto poi... Ah, sì, dopo... Si fanno scegliere la classe, dopo cominciamo, mi sembra. Ah, vabbè, capiscono... Stiamo di giurazione di fatto. Scegliere l'armi, tanto poi... Il sistema DEV ha neutralizzato l'attacco quasi immediatamente. Nuovi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine hanno causato altre vittime. Ebbene sì. Questa è una nuova guerra fredda. Anche se spesso non possiamo vederli, i nemici sono là fuori. Sono Jacob Enrichs, il nuovo capo. Questo è il ministro egiziano Saeed. Preso in ostaggio dall'NRC due giorni fa. Dopo le recenti rivolte al Cairo, vorranno farne un esempio. Punirli. Noi dobbiamo impedirlo. Tanto per chiarirci. Se dovesse andare male, voi non esistete. Mi sembra che sia finito l'infimato iniziale. Sì, sottotitoli non so perché non li ha messi. Non li ho trovati. Ah, ok. Poi si guarda come la cassa comincia a spiegare a tolgo. No. Che stai facendo? Aspetta, aspetta, aspetta. Stato. Cargo 4019, carburante in fiamme sulla pista 19. Procedere all'atterraggio sulla pista 11. Confermare. Sei un testa di cazzo. Stacco? No. Stacca. Pubblico? No. Pubblico? Sì, non pubblico. Va bene? Almeno spegni là. C'è il coso dietro, c'è un pulsantino. C'è una levetta. Gira là adesso? No, ancora accesa. Gira là, ok, è spento. E così facendo le tv. Battaglia, eh. Le tv, praticamente, questa qui è tanto più concentrata. Sì, c'è già provato, non funziona. No. Fatta apposta. E si è provato, ma non trovo i sottotitoli. Modalità, se sei descendo il tonico te. No. Neanche io. Non dobbiamo andare come modalità del tonico, vabbè, se tutto vuole più caricato. Beh, e fa niente. Comandi probabile. Mira assistita. Ma perché non me li metti? A B tanto. Vai su Encomi. 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 Non so. Si sa che sia la campagna. La missione. Esci. Vostra madre. Comandi. Almenta ti hai 5 filati. Schema comandi. Schema levette. Mira assistita. Mira assistita. Mira assistita. Mira assistita. Sì. Cosa siamo delle pitte? Che ne so. Io ero già lì. No. Ok. Va bene, va bene. Ok, tolto. Filtro contenuti. Contenuti caricato dall'utente. Grafica. Zona visibile. Antipremia. Modità del tonismo. Dai, non posso non ometerli. Ma forse è qua. Dialoghi. Audio personalizzato. Audio controller. Volume avanzato. Volume generale. Riconosci. No. Non ci sono. Castellano che non ci siano. Ok, quindi vi lasciamo anche a te. Ecco, su qui è Hendrik. Perché me li sono visti tutti quanti io dalla canzone costiturato. Proprio c'è ancora in testa. Non so memoria. Quasi tutto il testo ormai. La storia, ragazzi, ve la sintetizzo io. Perché me la sono studiata su Wikipedia. Perché ha cominciato a interessarmi. Soltanto all'inizio. Cosa pensate. Cioè, comincia già dal chemo da Black Ops 2, ragazzi. Cioè, è collegata a quella di Black Ops 2. E ci sono praticamente eserciti di macchine. E ogni città è praticamente dotata, come potete vedere lì, di cannoni di antiaerea che praticamente sono dentro inutili qualsiasi attacco aereo. E c'è tenuto un aerea addocchio. Bellissimo. Complimenti ai sistemi di difesa esterni. Complimenti. Ah, non funzionato perché hanno tirato il cibo. Ma ci ha falluto addosso. Infatti, vedo, vedo. Potevano distruggere il relito. Sì, non fare l'ecco adesso. Perché voi mi dice a me roba. Perché ho buttato una stradente? Eh, non sono bravo a giocare, come sempre. Lo sapete. Ah, crociarci. Vabbè, fico. Lo sappiamo. Reliti che cadono dappertutto, tranne che a noi. Lo so. Vabbè, tanto moriamo lo stesso. Quando morio io fai te. Ok. Eh, sì. Sono queste le leggi. Quindi mettiamo 18. Siamo tutti quanti felici. Ma non dimmi che devo aspettarlo. Eh, sì, devi aspettarlo. Ma io mi suicido, affanculo. Non posso giocare così. Dai. Guarda, guarda le facce che voglio capire se Henry è, Henry. Ho scritto lì, Henry. Ma stavano i ragazzi, veramente, cioè, sembra tipo Call of Duty, ma in realtà la storia è sempre troppo sottovalutato su Call of Duty. Sì, vabbè, anche quella di Ghost era bella allora. Sì, sì, se vuole di Ghost era carino, ho sentito di tradimenti, robe varie. Dobbiamo scoprire la posizione esatta dei ministri. Perché tutti quanti i Call of Duty sono famosi per via di... Di multiplayer. Mi sembrava molto più vecchio vedere l'animazione che ho visto, che ho stato titolo. Vabbè, ma poi... Ah, e pensavo fosse nemico. Stavo... Ero già col fucile pronto. Ora... Vaffanculo, te le leggi del traffico. Qua, perché la gente va a fuoco? Ma che sta succedendo? Sì, eravamo in muto, noi non abbiamo capito nulla. Sì, ci ha caduto un'aria addosso. Sì, un'aria addosso, gente che va a fuoco. Ah, non è un'auto che non posso prendere di vero. Ah, è sempre di questo. Sì, gioco sempre adesso. Ah. Io gli ero qua che gli ero... E praticamente gli è battuto sulla schiena. Ehi, che succede? Ma quello là, ma quello là è in regola. Cioè, la campagna... Cioè, potevano farlo tanto meglio, perché... La campagna? Sì, di qua. Cioè, vedere che tu gli vai là e non se ne accorgi, cioè... Sì, dai... E poi arriva lui dietro i te. Stiamo noi qua così, niente. Sì, ma tu vai lì, sei compito che sei un tuo amico, arriva lui che gli stacca la testa. Ah, non era con noi? No. Ah. E poi non si aggira. Eh, no, sono delle NRC, quella con il casco. Ma la NRC, quella con il basco rosso, sono una NRC, ricorda. Ah, NRC non era quella di Fallout New Vegas? No, è la... Eh, no, infatti anche io ci sono rimasto di merda quando l'ho sentito. Quella di Fallout New Vegas era... Era diversa. È un complotto! È un complotto! No, no, aspetta, no. Questa qui è tipo CNR, un po' di... Cambio una eterna. Ah, c'è una di New Vegas, NRC. Eh, ci sono rimasto di merda. Qua è tipo NCR. Ok, quindi mi attenzio però... New Vegas era... Ah, fai tutto, eh? Repubblic of New California. Non so. Sì, Repubblic New California. Disattivo gli allarmi del piano. Repubblica di Nuova California. Ah, come stemmo, non lo so detesto. Usa. Eh, spremiamo tracca tutto, micro voglio calcare Call of Duty. Mmm, vediamo. Niente. Ancora è un peggio nero, mi sembra. Sì, è un peggio nero, decisamente. Si vede dai San Alikea. Sì, anche io. Cambiamo, cambiamo telecam. Guarda quei poteracci. Noi io non ho visto niente, eh. Lecce non va mai per il suo... Sono a messa, è un po' sottomaso. Ah, 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 ah. E questo, vado, quante torture. Ma non ho ancora capito qui perché abbiamo il volume basso. Dicevi? Eh, sì, è una registrazione che non dura più di dieci minuti. Perché stavamo dicendo che abbiamo il volume basso, quindi non capiamo. Stavamo bene, perché ci abbiamo, se no, abbiamo l'interferenza con le cuffie, sapete come funziona. Che cavolo, ma sto qua, è sov, cavolo. Cioè, no. No, 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 voglio vedere come va a finire. No, cambia subito. Ah, ok. Voglio vedere come... Eh, cambia subito, bravo. Di mani in peggio. No, va bene. È meglio essere torturati con l'acqua, che col fuoco. Gli stavano un tipo ammarchiando come le mucche. Che ti... Non si chiama, quello del col... Col marchiatore, come che cosa si chiama? Dobbiamo scoprire il marchio. E vabbè, ma... E poi? Vediamo dove... È questo qua il nostro obiettivo? Forse. È lui, è lui. Eh, lo stanno portando. Bisogna recuperarlo. Lo mettono qui, salutato. Ah, perché lui è tipo un governatore importante. Quindi lo costringono tipo a fermare cose, forse. Due minuti. Eh, sì, l'avevano detto nel tutorial. Solo che noi avevamo volume basso e non avevamo... Infatti io, ragazzi, mi ero messo accanto a casa. Se lo facevo in singolo magari sentivo perché c'avevamo immedevole cuffie. Ma non possiamo metterci una doppia cuffia, noi. Eh, sì. Sarebbe figo una doppia cuffia. Ma mi sa che posso parla o no? Ah, nemici, nemici. Escu! Bellissimo, sei, hai già perso vita. Eccellente, Chris. Eh, scusa, non me l'aspettavo. E ce n'è granata. Non me l'aspettavo neanche io che arrivasse così velocemente. Eh, infatti. Però hai... Tu hai presente un bradio, postessi riflessi. Aiuto, mi stanno attaccando. Gli stenditi, troia. Non è inutile qua. Non è battlefield uno. Dai, fagli segreti. Spare attraverso il muro che dovessi incidere comunque. Eh, passa lui. Passa lui tutto fiero così al fuoco. Vai, Andy, che andiamo. Ho messo esperto, non mi ricordo. Ci è esperto, vabbè. Ok. Carro, prima ci stavano one-shotando praticamente. Eh, vabbè, ma lì. Ma perché non si gira adesso il pezzo di... Eh, perché sei bloccato a terra, hai bisogno di scontato spazio quando sei terra. Eh, qua, qua, dai, dai, vieni fuori, vieni fuori. Oh, madonna di Dio, mi tocca andare là da lui. Ah, è già morto. Però vedo che almeno stai riparato, quindi bravissimo. Eh, Fallout ti insegna più di quanto pensi. No, no, Fallout non insegna un cazzo. Davvero? Hai provato la sopravvivenza? Mi insegna che praticamente quando vai a casa degli altri è consigliabile ciullargli tutto, perché può esserti utile dopo per poter costruire barriere antiladri o lo che vale. Sai almeno com'è la sopravvivenza? È tanto difficile. Devi stare imparato per forza. Altrimenti non puoi... Come adesso? Eh, vabbè, ma è uscito dalla porta, io non posso vedere attraverso. Devi prevedere il futuro. Eh, prevedo il futuro. Io ho previsto che ti arriva uno schiavo tra 5 minuti. Adesso stai muto, eh. Che voglio vedere qua? Eh, vuole... E se sparo... Spara il vaso, vediamo se salta via. Eh, il vaso è... Grazie. No, no, quello lì è il barile, il vaso era a sinistra. Il vaso era a sinistra. E non, in caso, sei morto ed è qua. Eh, sì, per colpa tua sono morto. Avvicino di te adesso. Avvicino di te. Vai, vai. Sai già che ci sono... Ma guarda... Guarda come passa in mezzo come se non fosse nulla. E dici che io faccio schifo dopo, eh. Va bene, è un bot, chiaro. È un bot, è un bot, va bene. Ma se i nemici sono lì, non puoi stare... Granata... No, cavolo, hai già sparato a lui. È la storia, mi sembra. Eh, potevi sparare lì? L'hai fatto dopo tanto tempo. Cavolo, vabbè che... Ci puoi distendere. Ci siamo tante granate che già ce ne abbiamo tante. Ah, è vero. Non come nel multiplayer che ne hai due. Sì, mi fa. Eh, sono già tante. Non abbogliate, infatti, nel multiplayer, questa roba qua. Aspettate, ecco, guarda che... Ti vedo, ti vedo. Mi sa che hai fatto forse. Eh, dovrebbe essere molto. Aspetta, guarda, guarda del cavolo. Però fa danni, eh. Headshot bitches. Eh, ma qua non ti dice... Qua non ti dice quando l'hai ammazzato di venire, ti hai intuito. Eh, sì, giusto, è giusto, infatti. Vabbè. Giusto fino a un certo punto. Ma si sparava Hendrick, mi dice su merda? No. No, è vulnerabile. Passo attraverso. Irresentivo il 5. Potevi sparare addosso, gli facevi qualcosa, però non ti diceva nulla, mi sa. Porca vacca. Ok, non faccio esplodere le robe sotto il naso, come hai fatto. Come hai fatto tu con me. Sì, come ti avevo consigliato di fare. Esatto. Spararebbe l'abilità speciale. Non è vero che mi esplode. Non lo so. Ah, l'ho ucciso, ok. Provo. Cos'è? Mi sa che era... Potenziamento... Rallenti il tempo. Guarda, voglio vedere, mi hai fatto lì, facciamo esplodere. Mi sa che... C'era una baccezza di vento per sinistra, esplosa. Ah, guarda, è caduta, ok, non è esploda. Ah, ok, è abbastanza interagibile. Potremmo vedere questo io. Dove bisogna andare, Hendrik? Di sopra. Stai prendendo fuoco. Eh, di qua... Da che parte... Hendrik? Eh, lì, c'è scritto, c'è scritto il... Come si chiama? Cracco il sistema. Il rinompo. È una porta in acciaio, come si fa? Oh, alta tecnologia. Con il cerchietto magico che... Che figa. Cos'è? Non credo di aver capito. Era uno scassina forte. Eh, che... Ma ci vedono traverso, no? Abbiamo trovato i besterli. Mi sa che non ci vedono traverso. No. No, c'è... Ah, no, noi stiamo danni informazioni a quell'altro. Guarda che stiamo danni informazioni a quell'altro. Voi da sotto che vedo un obiettivo? Ah, sì, è vero, aspetto. Visto? Bella, bravo. Come pensavo... Guarda, 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 guarda che... Eh, lui tutto buono arriva da là. Sì, infatti, diciamo, le informazioni su come entrare. Cioè, noi dobbiamo sperare attraverso, ma meno che non... No, è riforzato sto vetro. Eh, beh, sembra abbastanza... Sì, è cos'è che c'è stato prezioso per noi. Io... Io condanno terroristi a morte per mezzi di Tunisia. Ok, basta da smettere di fuga. Quindi condanni tuoi stessi ministri... Oh, 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 oh. Che questa è brutta. Alla porta, ti copro io. Scusami. 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 Scusami, devi di via via te lo sai. Scusami, vado, vado, rirrompiamo. C'è che tomagiano. Eh, perché... Vai, vai, io copro sinistra. Foto. Ah, sì, sto qua, era alciato masso, mi sembra. Alciato masso. Eh, ma a me sembrò un po' così. Ma poi... Miniscai. Caldo, cali... Ah, Khalil, cali... Ah, Khalil, cali... Khalil, cali... Khalil, cali... Adesso... Khalil, quando sono difficili sti nomi. Ci hai tutta 30 tentativi per riuscire a decifrare un nome. Ok, ci hanno scoperti, mi sembra. A meno che le luciano, se non vuol dire buon compleanno. Ah, ah. Sì, sì, sta tranquillo. Finché Endrix non spara, vuol dire che non c'è nessuno. Eh, sì. Ma ci scavo a puntare al surrealistico. Vedi qualcosa? Eh, che paura, ora si c'è da sparare. Un altro insediamento che sono detto aiutano. Lì, lì, lì. Eh, c'è la porta lì, quindi. Eh, la porta? Eh, sì, no, ma... Mi sa, aspetta che apre lui... Apre lui. Bastardi, traditori. A me l'avevi visto che c'era un nemico e sperato a caso. No, no, sapevo che c'era un nemico. Ah, ok, io avrei sperato a caso. Porca trono, rilanciala. Almeno qua puoi rilanciarla. Bella, 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 mi ha giocato bene. Un po' è dopo dove vorrei cambiare. Perché nel multiplayer non puoi lanciare? Eh, le stai prendendo, beh. Un pochino. D'astordente che neanche nel multiplayer è utile in ferrofi. Ah, ti dà il segno quando... Eh, sì, dà il segno, ma non ti dicevo. Ah, solo quando... Porca troia. Ah, solo quando non miri. Bene, è bello, gli lanciano indietro le granate. Eh, solo perché nel multiplayer non l'ho messo? No, c'è nel multiplayer, è tanto difficile, porca troia. Stà giù, stà giù. Recupera un po' di vita. Ah, sì, rispetto. Guarda che c'è una granata addosso a un mio amico, perdonami. Anche te. Ma sì, tanto immortale. Ma si chiama Hendrix? C'era su, guardate quante le granate. Ah, porca vacca. Ah, è una granata mica, stà qua. Oh, sto qua, avevo una bomba e si è fatta esplorare. Uh, vi volete, ragazzi. Corretti, sti qua. È normale. C'è anche nel multiplayer, questo. Una granata di mezzo è facile il pandemonio. Forse. È un po' inutile non mirare. Sì, va bene, a meno di segnalare. Trovo bene con queste posizioni qua, abbastanza. È quello che lo scelte io. Non è... Non la... No, se fosse online, avrei già pensato che bisogna essere veloci a girarsi, però così facendo. Eh, va bene, non posso... Solo meno si va. Porca vacca. Vieni fuori. Metti fuori il muso. Lo so che sei del piede, lo so, da. Da, vieni qua, avvicinazione su uno, però ne hai di munizioni, eh. Eh, sì, potrò matruttarmi, immagino. Solo prendere arma. Nei uno, nei uno, nei uno lì, nei uno lì. Porca vacca. Non te ne eri accorto. Eh, non me ne sono accorto dopo, ma dopo di te comunque, grazie. Eccolo là. No, questo qua. Porca troia, porca troia. E spostatevi però. Porca vacca. Ah, ne hai visto uno, io non l'ho visto. Eh, là, guarda là, guarda là. Ah, beh, dai, l'hanno ci sono l'ora ormai. Ok, bene, mi sono ripreso. Ok, bene, mi sono ripreso. Sì, voglio vedere i cadaveri dell'Olelite. Guarda che carini, madonna. Ma perché non fareste cazzate. Eh, ma io guardo... Ok, ok, che è la campagna, sono bot, però dai, ste cazzate non fare. Sì, è vero, vedo che mi fa nascere. Madonna mia, mori, morita il quadrato. Viene, potenziamento cibernetico, rush, madafaka. I pugni sulla faccia che fa un po' danni di tre proiettili. Eh, però mori in faccia, faccia. Una donna. Da, ti stupro il cadavere. Maschilismo everywhere. Maschilismo everywhere. Ok, andiamo su, 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 dai, com'è stato? Siamo due militari e due appena salvati da delle torture. E però li stiamo massacrando. Esatto, li sanno usare meglio dei soldati addestrati. Qui, i prigionieri. O forse siamo noi che sembravi. È meglio fare come ti dico. Oh, la stame vicino. Ah, non fare la cazzata dopo. Ah, spero. Che tipo che c'era i robot, stiamo a mostrare la fermi a sparagli. Sì, ma io non c'è te la sparaglia, ma è vero, perché... Ah, no, è un'altra, eh. Taylor, eccolo qua, voglio vedere Taylor. Ti ho visto già che fa, ragazzi. Eh, per la sua squadra. Vuol che trovi è bardato, su qua, eh? Si vede da quanti armamenti, ha. Anch'io, già. Eh, prego, comunque. Andate, 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 andate. Andate, 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 andate. Andate, 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 andate. Vedi ancora, Reggio? Non ha funzionato. E che poi, in questo caso, non so io. Che peccato. Che peccato. Non rinviate. Non rinviate. Non rinviate. Non rinviate. Registazione interrotta, ragazzi? No, volevo vedere, ah, sto qua, chi è che... Vabbè, gli nitro vedremo più avanti. Che strage hanno combinato. Hai recuperato le munizioni comunque. Bastardi. Cassa e munizioni. Il fornimento, ok, basta così. Ora puoi uscire che c'è il pieno di jail force. C'è mai visto quanti hanno ucciso. Però che mostri, non avete dei sentimenti. Tu sei con noi, le odie. Diazza, è condizionato. Diazza, Diazza. Andiamo, perché però... Eh, sì, lui salta. E sparano a noi, ma non lo avete qua, gli prendo tutti quanti. Quasi. Eh, basta, e basta, cavolo. Eh, magari... Quello, ah, Hendrix. Eh, non me lo... Tu te lo puoi mettere prima il nome? Guarda lì, bene. Quello è morto. Bene, guardiamo a sinistra. Niente, mi sembra... Ah, sì, qualcuno, qualcuno. Sali su l'aereo. Questo qua è un amico. Vedo cose strane. Eh, l'usitano per confondere gli epiletici. Volevo mettere le impostazioni per epiletici, ragazzi. No, per Daldonici, no, epiletici. Ah, per Daldonici, scusami, sì. E vedere cosa cambiava. Io penso, perché ho visto... Buttoli colori a... No, sì, dovrebbero mettere i colori compati. Diventiamo dopo, Daldonici, sì. Rifornimenti, vai così. Voglio cambiare l'arma, non piace questo. Eh, vai su. No, 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 lì sotto c'è scritto vai. C'è scritto vai, la sua. Eh, non lo sapevo. Eh, non lo sapevo. Porca macchina. Granata... Allora, un consiglio è un granata, forse. Le nostre armi sono inefficaci contro quella PC. Ah, ok, ero meglio se non ti sposti. Se mi avevo visto un video simile. A sensore, la sensore si chiude la sua granata, la granata resta dentro. Cazzo, non posso andare. Brutto di morti. Fuoco sul video. Che? Che? Che devi fare adesso, non mi ricordo. Non fa... Ah, no, sono incastrato. Come ti sei incastrato? Sono incastrato. Ah, ok. È il paletto. Avevi un palo in culo. Avevi un paletto. Ah, è morto, è morto. Hanno richiesto dell'artigliaria, la mia. Era la vorrei che la richiedersero. Oh, oh, oh. Vai, saltoni. Oh, tu non sai com'è. Oh, tu nemmeno. Oh, oh, oh. Dove sono i miei amici? Amici, dove siete? Guardate che campero qui ora. no è come che sei morto proiettile volante proiettile volante ancora qui stanno dovevi andare avanti quello la che la che mi aspetta a distruggi oggi mi c'è scritto distruggi devo farlo sembra è è fatto porca troia c'è qualcuno che mi punta a quello fermo fermo che ti ammazzo guarda diaz che gli prende dai diazai io non rilancio affanque auto vavora per rilanciare vedi che fallisce e me la rilancio dal gioco e trema la mano e mi lancio addosso da me la manano solo magari vabbè dai anche loro sono abbastanza sposti ok sono finiti bravo continua a parlare in tessere il fornimento beni porca 2 a non è lui il ragazzo il cecchino stesso che ci sono il camperone è sì tipo no niente non me lo spoiler altro il fornimento vai prendi tutto prendi tutto bene non ho trovato un ca e guarda come siamo pronti risposti gli riprendi le spalle così che bello che a vedere che nonostante sono circondati non si arrendono da dove a ex complimenti per l'esposizione museo museo tipo a questo qua è amico perché vedo che al no bellissimo sei sposto come in un museo era tipo nato i nostri amici qualche vorrei vedere è una donna guarda la donna da feo oddio 7 ok no io non mi spongo più è un sport go più ma non sono robo ok finché non sono robo va tutto bene i robo sono cazzutini abbastanza buono beccato uno dalla distanza adesso devo avere un premio adesso dammi un premio comunicazione attive finchia ah è amico guardate la donna che volevo vedere qua e dove è la donna scusa è là sul tetto che sta sparando devo vedere se sono uguali come nelle si ma non posso perdere dettagli non posso perdere sono munizioni di trete se vuoi comunque ok rifornimento ultime consiglio finalmente usa la vita speciale se devi sport che ti rende tipo super doppia no non serve è che libera che sei a costa amico vedo qualcosa da rilevera si riesce per diamo e scattini e poi butta qui no è amica no 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 ok tipo come prima guerra mondiale disteso scattino disteso scattino come mi hai detto tu a me lo spero sia si si è perché è una tattica da dove da dove a destra eh ma scusa ma disteso fa cagare era una tattica della prima e seconda guerra mondiale per raggiungere l'infetto ai trinciani nemici se farsi colpire disteso scattino è che tu corri poi ti butti a terra facendo finito di essere non morto poi ti rialzi non morto facendo finito di essere morto ah poi ti rialzi ricomincia a correre e finita di essere morto in nuova buttante a terra allora mi sa tanto che qua muoio ti prego fa che mica che amica eh si amica sta minchia questa è amica quella che ho lanciato e vai uno forse è morto? si è morto ehi grazie per essere arrivato in miotardo oh oh no 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 ah distruggi ah distruggi ah distruggi ah distrutto e sposo da solo complimenti bravo a 45 metri beh divertirò riguardami questa vegetazione per capire la storia anch'io no io me la farò non lo so ah sei amico che i cali bene il game plan in campagna è fatto bene è un vetro ha funzionato una volta ragazzi c'erano i fuochi d'artificio ehi Chris ah ma ottimo ha sbattuto il piede per terra c'è stato un botto ce ne siamo rimasti di merda io ero tipo sono così forte ah ok un botto cioè all'inizio ce ne eravamo rimasti di merda tutti e due ah ho la visione notturna figo grazie di te ah mica non vedono niente stai fermo non ti vedono ah mi sa che ti vedono stai fermo lascite la notte in mezzo voglio vedere quale mamma nooo non credo che funzioni funziona to lascio il no eh si sei amato te però eee ne ho ucciso no eccolo no ne vedo uno non voglio gli assassini da dietro gli assassini da dietro gli assassini da dietro eh assosomati peccato è un comio ottenuto maestro delle omeri grazie è davissimo è un comio che vuol dire un comio non me lo chiedere ci so colpisce anche 3-4 volte forse funziona è quello del supermercato che non si apre finché mi ti avvicini ma veloce dai Hendrix dai mi allontano a prendere da verità ah porca abbassati abbassati ah no è amico ok e io vedevo infatti mi sembrava strano che Hendrix se ne sta se fermo in piedi ah amico nemico già morto nemico eee fallito allora non lo non nonò non lo 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 no non lo non lo non, una pistola bella che pistola non è della campagna già mrb semi automatico ok semi automatico ah alfa maschio alfa quello quello è morto quello non è morto ma adesso lo sarò hendrix amico forse magari un sintetico cos'è e mi sa che quei sintetici sono più pericolosi che in te vai a comirco attenti e mi sembra riparti subito a alfa 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 e lo ha già fatto maletta coppia mi raccomando non rimanete fermi a sparare non fate una storia inizia di cartesco pensavamo dobbiamo distruggere di anno dove scoppare tanto sparagliare non si apre subito il tempo la granata il tredo fermo fermo a te difendi via 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 noi avevamo provato anche di stare là a distruggere il tutto è infatti siamo siamo ci siamo resi conto che cosa c'è qua preleva bravo ah collezionabile scoperto un attimo che non so dove devo andare ah mi sa che ci siamo riparati e ora siamo salvi siamo salvi a un figlio ah si qua qua mi ricorda il che quel casino che mi ha mangiato di delta force black ops town mi ricorda un battlefield 1 un po più grande un po più avanzato con te con sei ruote dove voi preoccupatevi di portare il nome del nostro personaggio sconosciuto taylor hendrix alfa alfa a squadra pensavo si chiamassero alfa no veramente pensavo chi è quel alfa la che nome di merda ah ecco qua ecco qua ecco qua eh si perchè finchè non finiscono di parlare non puoi salire non ha senso né un console del genere in guerra perchè ma questa non è una guerra basta un colpo di bazooka se hai posto questo è call of duty complimenti per la d3 gta ma che schifo che faccia di tanto non puoi morire praticamente spero magari fanno lì se non mi chissà che ne sai magari sui stronzi non so non so in su porca te la casinò almeno non le sputana forse esplosioni ci manca solo vedere il rambo là in fondo quel mitagliatore guarda ci manca gesù che cavalca un dinosauro mi devo vedere perchè non li ho mai visti però la baffetta del testo questo qua mi sembra che infanzia un poca teoria che abbottuto che non capisco più niente voi avesse limitati a sparare ah giusto aciò quei robottini scusa ma siamo di una granata non ha senso della mati robot così per quelli mai di ammazzato non è che non ti costeranno niente però abbe ma se sono programmati per ammazzare magari vengono da ammazzare e basta si io so ma non così cioè e che so io il futuro ci sono tanti uomo che sparano a 1 km a mezzo di distanza sti qua sono un uomo e sono un uomo tanti formica per rimanere con gusto nello a soffrire le persone appunto ma sono programmati per uccidere perchè non ti ammazzare e basta no ti fa sapere vedrete più avanti esatto ma l'abbiamo appena spoilerato quindi non va bene si guarda spara non ti devi mettere così poi gli ricordi non assi niente sta roba eh si mette la fa investite o vi ammazzò io o mi investite voi ah quello era nemico vabbè spara la torretta voglio vederla cadere quale? già fatto spara quell'altra voglio che cada prima tu l'hai colpita oh quello è morto perchè l'ho ucciso l'ho colpito io ah qua ti ricordo quanto era difficile corca troia qua qua ahia hai caduto di faccia come non come i gatti che terrano di zampe tranquilli ho solo perso la sanità mentale è il nostro passaggio dove? dove? ah ok seguite qua devi stare riparato seguite gli npc ti ricordi? riparato Hendrix non sta riparato o non sto riparato neanche io eh ma Hendrix hanno botti e botti hanno poteri che tu non hai tipo la telepatia tutto bene? giù 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 poterimo non morire finchè non arriva la loro ora difendi ma che difendi a fare? guardate mi viate qui apportato voglio venire anch'io voglio venire anch'io voglio venire anch'io stai qua stai qua stai qua non ti muovere spero eh no ma eh for che c'è eh sicuramente mi lascio qua eh alfa alfa vengimi eh che bella la torre che cade si se noi ci spugniamo ragazzi un robot di merda se noi ci spugniamo siamo straffati esatto eccolo la dobbiamo difendere anche se vorrei scappare anch'io alfa che stai facendo sta sparando sta sparando a che? ah ci sei circondato sono andato per tutti i nemici grazie per non aver ok non sono morto non sono morto eh volevi prendere joystick si ma aspettate un po' di più per scappare guarda che stronzo guarda che è stronzo l'elicottero oh guardate qua corpo a corpo con corpo a corpo con un robot solo perché sei fatto di fare uno sneak che mi pugni solo perché no solo perché sei di fare non vuol dire che sei più forte il compatto meglio da obbiacco push roda ah non funziona non è skyrim troia guardate che si gode a farci soffrire programato per soffrire o programato per uccidere ahi ah si ma si ma ci spezza come se fu fa male ho visto padre che spezzavano figli con meno violenza ah ah si ok ma siamo fatti di cartone per loro no ci abbiamo la ah si ci abbiamo il come si chiama eh io vorrei più imparare coglioni invece ah eh grazie salvarci grazie taylor a te e taylor io non tenevo conto dei nomi delle persone mi bastava andare avanti ma io soltanto ho dovuto imparare in briga della mi sono accorto sull'ora che il braccio è dietro la mia schiena ed è questo è molto gay eh non so ma non ah ok questa qua abbiamo finito il primo capitolo bene bello togli il braccio ti prego ok mi chiedevo ma gli va bene sul serio eh me ne sono accorto dopo perché ero concentrato ok finito qui il primo capitolo no questa battuta della di offline stacca la registrazione eh saluto almeno e ci si vede al prossimo capitolo che uscirà tra poco ciao a tutti